I valori dello sport come strumento per battere pregiudizi, discriminazione e razzismo. Lo stadio di Filline Valdarno è stato il teatro della seconda edizione di Oltre la Barriera, l'iniziativa promossa da Rete Europea Risorse Umane e dal Comune di Filline Incisa Valdarno. Nell'ultimo anno tante associazioni sportive paralimpiche toscane hanno dato vita a una serie di incontri ed eventi. L'esperienza si è conclusa con un triangolare di calcio. Tra i testimonial dell'edizione 2016 dell'iniziativa, il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, il difensore dell'Empoli Marco Zambelli e l'ex bomber della Fiorentina Christian Rigano.